Il Friuli Venezia Giulia darà il patrocinio al congresso della famiglia di Verona, a dirlo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, insorgono le opposizioni, ritorno all'Italia degli anni 50. Aveva in casa decine di beni culturali e storici, tutti trovati con il suo metal detector, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio museo abusivo ad alta terma e condannato il proprietario. Si è spento questa mattina dopo una lunga malattia, Dino De Antonio, arcivescovo e marito di Borizia, le esecue saranno celebrate lunedì, il ricordo delle istituzioni. Sigurato oggi il primo atto ufficiale per l'avvio dell'iter per la tangenziale sud, firma tra ente regionale e sindaci del territorio o per attesa da più di 40 anni. Poco più di 24 ore la sfida tra Italia e Finlandia, lo stadio Friuli, il CT Mancini in conferenza, da qui partire per la qualificazione intanto inaugurata, è stata inaugurata la nuova sede FIGC regionale a Palmanova. Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Andrò sicuramente al congresso mondiale delle famiglie, programma a Verona e il Friuli, Venezia Giulia, darà il suo patrocinio. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha dato il suo appoggio al discusso congresso veronese a margine dell'incontro. Questa mattina per la firma dell'accordo per la tangenziale sud, non capisco tutte le polemiche sull'evento, continua Fedriga, è un convegno per difendere i diritti dei bambini. Pronto per partecipare alla festa della famiglia? Non soltanto andrò ma ho deciso di dare il patrocinio, che il convegno lo ritengo particolarmente importante perché è in linea con gli indirizzi di questa regione che vuole valorizzare le famiglie, aiutare mamme e papà nella vita quotidiana perché devo dire che per troppi anni le famiglie sono state dimenticate e la donna considerata come un individuo che doveva scegliere tra famiglia e lavoro. Penso che così non debba essere. Però proprio su questa festa sono nate tante polemi. Sorprende devo dire, per questo mi sembra che sia un convegno propositivo per difendere le famiglie, per difendere i diritti dei bambini. Questo lo ritengo fondamentale perché i più deboli sono i bambini e penso che non si possa, per esempio, su chi propaganda l'utero in affitto comprare la vita e per un desiderio dell'adulto comprimere i diritti dei bambini. I bambini hanno i diritti almeno potenzialmente dopo i casi della vita e anche le difficoltà della vita possono portare a qualsiasi circostanza però perlomeno potenzialmente, addirittura prima che nascono, ad avere la speranza di avere un papà e una mamma. In questione migranti, lei recentemente ha detto che addirittura ce n'è un 20% in meno che transitano attraverso la rota balcana. Sì che no, che noi accogliamo. Noi abbiamo trovato una situazione nella quale c'erano più di 5.000 persone nell'accoglienza in Fulenza Giulia. Abbiamo ridotto del 20% in pochi mesi questi numeri. Penso sia importante intanto per garantire una maggiore vivibilità del nostro territorio. Dall'altro lato c'è ovviamente un risparmio anche di risorse pubbliche. Abbiamo ricevuto la diffida ad autorizzare il marchio di Palazzo Chigi. Proprio ora il cambio del logo è in corso e in più siamo orgogliosi di annunciare il patrocinio della regione Friuli-Venezia-Giulia. L'hanno dichiarato Antonio Brandi e Jacopo Cocco, vicepresidente del 13esimo congresso mondiale delle famiglie che si terrà appunto a Verona dal 29 al 31 marzo 2019. Sulla decisione di concedere il patrocinio della regione al convegno sulla famiglia di Verona insorgono le opposizioni. Per il segretario del PD del Friuli-Venezia-Giulia Cristiano Sciaurli, Fedriga ha piegato in senso ideologico le istituzioni fino a dare un patrocinio leghista spacciandolo per quello della regione. Si sono messi tutti in fila da Fontana in giù per rappresentare un'Italia che si pensava sparita negli anni 50. Ma forse è lì che vogliono tornare quelli del carroccio, riaprire i bordelli, rimettere le donne in cucina e mandare gli omosessuali a curarsi, replica Sciaurli. Fedriga abbia il coraggio di dire che la Lega non ha più voce, continua Sciaurli, su autonomia e territorio, ma è semplicemente una forza di estrema destra reazionaria e illiberale. Non dissimuli le sue intenzioni parlando di difesa dei più deboli, quelli che calpesta ogni giorno. Partecipi a titolo personale e orgogliosamente a ritrovo di gruppi contrari all'emancinazione femminile e alle unioni civili di attivisti antiabordo dove conclude provi a cogliere il sussulto di degnetà del premier Conte che ha mandato a Verona la diffida a usare il logo di Palazzo Chigi, conclude Sciaurli. Si è conclusa con una condanna del Tribunale di Udine nei confronti di un cinquantenne di Arta Terme, un'indagine iniziata nel 2017 che ha visto coinvolto un appassionato di ricerche archeologiche clandestine, il Carnico, usando un metal detector, aveva collezionato un tesoro di oggetti di rilevanza culturale. Peccato che i beni trafugati fossero di proprietà dello Stato. In particolare i carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno scoperto e sequestrato nell'abitazione del cinquantenne un pugnale medievale, 16 dardi romani, 18 monete della Serenissima di Venezia, 9 anelli medievali di provenienza civilese, 41 pallini di piombo di vari calibri per archibugio, sei medaglie votive risalenti al XIX secolo e due metal detector usati appunto per le ricerche. L'uomo è stato condannato per impossessamento illecito di beni culturali dello Stato, mentre i reperti sono stati consegnati alla soprintendenza del Friuli Venezia Giulia. Continua l'operazione Cars Lifting delle fiamme gialle di Pordenone che stanno indagando su una vasta truffa ai danni dell'erario relativa ad auto di lusso comprate all'estero. Sono stati bloccati una ventina di conti correnti e sequestrati opere d'arte, orologi di lusso, ville e terreni tra Udine e Pordenone. Nel corso dell'esecuzione di un sequestro preventivo dell'importo di oltre 5 milioni di euro eseguito in seno all'operazione Cars Lifting, le fiamme gialle di Pordenone in accordo con la polizia stradale di Udine hanno eseguito numerosi nuovi sequestri. Sono stati apposti in sigilia due ville ad Anzio, Nettuno di cui una confinitura, aree di lusso, piscina e ampio terreno, tre appartamenti di cui uno è in centro a Pordenone con finiture di pregio e poi quote di una società proprietaria di una tenuta agricola cisterna di Latina. A seguito di perquisizioni delegate dalla procura di Udine negli spazi a disposizione degli indagati e dei concessionari e delle auto-officine non indagate della provincia di Latina, di Udine e di Pordenone, sono state complessivamente sequestrate 54 auto di grossa cilindrata. Porsche, BMW, Mercedes, Audi e poi auto storiche americane ed europee quattro erano in provincia di Pordenone, nove nella provincia di Udine sequestrate, poi 14 motociclette Harley Davidson e Ducati, anche storiche, una addirittura risalente alla seconda guerra mondiale. 20 orologi di lusso, di cui tre sequestrati a Pordenone, 11 opere d'arte, tra cui due quadri sequestrati a Pordenone, 2000 euro in contanti, sono stati bloccati, poi complessivamente circa 20 conti correnti. Quest'ultima attività è ancora in corso. È al vaglio poi del materiale provatorio rinvenuto a seguito di perquisizioni effettuate nelle agenzie di pratiche auto utilizzate per le immatricolazioni fraudolente, le officine utilizzate per la schilometratura e le stesse società utilizzate per la frode. Qui sono state rinvenute nell'immondizia anche fatture distrutte. Molesta i clienti al bar di Codroipo e poi si scaglia contro i carabinieri. Un cittadino marocchino di 25 anni è stato denunciato per oltraggio e calunni. Andiamo a vedere tutta la cronaca in pillole. Ubriaco in un bar di Codroipo e importunato i clienti all'arrivo dei carabinieri li ha minacciati e ingiuriati. Fermato e portato in caserma un cittadino marocchino di 25 anni, destinatario di un foglio di via di 3 anni da Codroipo, è stato quindi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, calunni e inosservanza del divieto di ritorno. Rubo da un'autovettura un blocchetto contenente buoni carburante per 50 euro a marsure di aviano. Bloccato dai carabinieri è stato condannato e dovrà scontare un anno e 14 giorni di reclusione. A finire in manette un 55enne di aviano. Rapina impropria in una profumeria e furto aggravato di capi d'abbigliamento in due negozi di Udine. A finire nei guai una cittadina ucraina di 37 anni è arrestata dalla polizia di Stato. Dopo il colpo la donna ha cercato di fuggire strattonando una commessa. Bloccata è stata poi portata nel cacere di Trieste. Colto da uno a loro un uomo di Gorizia è stato salvato dai vigili del fuoco. Caduto dentro una cavità carsica l'uomo era riuscito a dare l'allarme appena in tempo per poi perdere i sensi. Ha riportato la frattura di una gamba ed è stato portato in ospedale. Ladri nelle scuole di Castions di strada dove sono stati asportati computer, materiale per gli studi di geologia e soldi. I danni ammontano a circa 500 euro e sul caso indagano i carabinieri di Mortegliano. Incendi in una rimessa di Pinzano al tagliamento. All'interno c'erano una moto zappa, un moto coltivatore, motoseghe e alcune tanniche dissolventi. I pompieri hanno limitato i danni e impedito che l'incendio si propagasse agli stabili vicini. Si è spento questa mattina dopo una lunga malattia Dino De Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia. Le solennie esecue saranno celebrate lunedì 25 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gorizia. Si è spento questa mattina nella sua abitazione a Gorizia, l'arcivescovo emerito dell'arci diocese goriziana, Monsignor Dino De Antoni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, il 12 luglio 1936 ha seguito dapprima gli studi umanistici e teologici nel seminario diocesano a Chiozotto, quindi l'Università Lateranense, conseguendo la laurea in diritto canonico. Ordinato sacerdote, il 23 ottobre 1960 ha svolto numerosi ministeri nella sua diocesi natale, diventando anche vicario generale fino al 1998, quando Papa Giovanni Paolo II l'ha nominato arcivescovo metropolita di Gorizia. Dal 2 giugno 1999, succedendo da Antonio Vitale Bonmarco, è rimasto arcivescovo fino al 2012, quando, per raggiunti limiti d'età, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Dal 14 ottobre 2012 è diventato arcivescovo emerto dell'Arcidiocesi, mantenendo per la conferenza episcopale Triveneta la delega nella Commissione per i Rettori dei Santuari del Triveneto e nella Commissione per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Pellegrinaggi. Da tempo malato, Monsignor Di Antonio aveva comunque deciso di rimanere vicino a quella gente che sentiva sua, scegliendo come abitazione un appartamento del Palazzo dei Canonici e partecipando, quando la salute lo consentiva, a varie celebrazioni, sempre invitato in varie ricorrenze delle parrocchie dell'Arcidiocesi Goriziana. I solenni funerali saranno celebrati lunedì 25 marzo alle 15.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gorizia. Si è tenuto l'incontro questa mattina a Pannellia di Sedegliano, tra sindacato e proprietà della Mangiarotti, dopo la comunicazione della chiusura dello stabilimento di Sedegliano. Doccia fredda per i dipendenti della Mangiarotti di Pannellia di Sedegliano, che lunedì incontreranno le organizzazioni sindacali di FIM e FIOM per conoscere i termini della chiusura dello stabilimento del Medio Friuli e del loro trasferimento a Monfalcone. Noi crediamo che si debba fare tutto il possibile perché questo non accada. Tutti questi anni come FIM avevamo sempre espresso le nostre perplessità in merito a una sede, a uno stabilimento dove non vedevamo investimenti, ma l'azienda ci tranquillizzava ogni volta dicendoci tutt'altro che sarebbero stati messi in campo investimenti, assunzioni. Oggi scopriamo dalle parole dell'amministratore delegato che lo stabilimento è inadeguato logisticamente, che gli impianti sono a dir poco obsoleti e che tutto ciò che viene prodotto nello stabilimento di Pannellia è in perdita. Taglio di dipendenti e di attività produttive alla DM Electron di Buia. Le pessime notizie sono state comunicate in questi minuti dalla proprietà alle organizzazioni sindacali di FIOM, CGL e FIM CISL. I vertici della DM Electron hanno messo sul tavolo un conto economico che non regge e una crisi di settore che ha fatto segnare un meno 12%. Si è rotto poi in maniera irreversibile il rapporto di fiducia dopo il sit-in di dicembre. Lo ha riferito alla proprietà che non ha dato indicazione circa i tagli all'occupazione, ma che ha sottolineato come anche molti dei clienti storici siano rimasti letteralmente spaventati dalla manifestazione di protesta di dicembre. I punti chiavi della strategia del gruppo Danieli per il mercato cinese nei prossimi 5 anni sono legati all'innovazione tecnologica, al proporre soluzioni flessibili e al sempre più ridotto impatto ambientale. Lo ha detto il Presidente Gian Pietro Benedetti, intervenuto nel pomeriggio al Comitato Direttivo del Forum Italia-Cina a Roma. Vedo prospettive interessanti per i prossimi 10 anni in un'atmosfera positiva win-win, possibile però solo se con i fatti si è competitivi ed high-tech. Si è concluso così l'intervento di Gian Pietro Benedetti, Presidente del gruppo Danieli, all'incontro del Comitato Direttivo del Business Forum Italia-Cina, organizzato nel pomeriggio a Roma nelle sale di Palazzo Bernini, al quale è intervenuto tra gli altri anche l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. Il numero uno della multinazionale di Butrio, 9.500 dipendenti e fatturato medio di 3 miliardi di dollari all'anno, ha sottolineato come il gruppo, grazie alla presenza capillare nel mondo e all'elevato contenuto tecnologico dei prodotti, sia un partner tecnologico e strategico ideale per i player cinesi, sia nella stessa Cina sia all'estero. Possono contare, ha evidenziato Benedetti, sul nostro know-how e sulla nostra esperienza centenaria nel settore siderurgico. Ricordando come la Cina sia sempre più attiva in investimenti strategici fuori confine, Benedetti ha messo in risalto come Danieli abbia stretto diverse collaborazioni con aziende cinesi nella realizzazione di impianti chiavi in mano, per esempio in Russia, Algeria e Azerbaijan. A Roma è stato ricordato come il primo contatto di Danieli con la Cina sia avvenuto nel 1979 con un ufficio di rappresentanza a Pechino. Nel 2000 la presenza è stata rafforzata con uffici tecnici e poi con il primo sito produttivo. Nel 2007 un'ulteriore espansione con la realizzazione della sede attuale di Changshu, realtà con un turnover di circa 250 milioni di dollari e 1.200 persone. L'obiettivo, ha concluso Gianpietro Benedetti, è di crescere nei prossimi tre anni a 400 milioni di dollari. Dello stabilimento di Changshu ha parlato anche Anna Mareschi Danieli, dirigente del team amministrazione e finanza di Danieli, che ha rappresentato il gruppo al tavolo sulla cooperazione nei paesi terzi nell'industria manifatturiera. Il 20% delle persone impiegate sono italiane, ha detto, precisando come la preparazione di tecnici ed ingegneri cinesi del team Danieli in Cina sia buona. Ma Mareschi Danieli ha inoltre posto l'accento sul fatto che la difesa della proprietà intellettuale in Cina negli ultimi anni ha fatto notevoli progressi raggiungendo livelli accettabili e il paese sempre più agevola le aziende a capitale estero che operano sul suo territorio. Le sfide principali che la Cina deve affrontare nel settore siderurgico riguardano uno sviluppo più sostenibile, incentivando tecnologia e innovazione, e la maggiore attenzione per l'ambiente con la riduzione delle emissioni. A fronte di ciò, Gian Pietro Benedetti ha affermato che i punti chiave della strategia del gruppo Danieli per il mercato cinese nei prossimi cinque anni sono legati all'innovazione tecnologica, al proporre soluzioni flessibili e a sempre più ridotto impatto ambientale. Stasera i rappresentanti del gruppo Danieli presenti al forum parteciperanno alla cena istituzionale organizzata al Quirinale alla quale interverranno i presidenti italiano e cinese Sergio Mattarella e Xi Jinping. Negli accordi satellite legati alla firma del memorandum sulla nuova via della seta tra il governo italiano e la Cina è coinvolto anche il gruppo Danieli, partner della Cina per la realizzazione di un impianto siderurgico integrato del valore di 1,1 miliardi di euro che verrà realizzato in Azerbaijan. Danieli realizzerà la parte tecnologica dell'impianto per un controvalore di circa 200 milioni di euro. Via della seta, ecco cosa prevede il memorandum Italia-Cina per il porto di Trieste. Il progetto si chiama Triab e comprende tre parti. Si chiama Triab e riguarda direttamente il porto di Trieste, uno dei 30 accordi ai quali apre la porta il memorandum of understanding, che sarà firmato a Roma dal presidente cinese Xi Jinping e dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Triab è inserito nella lista dei progetti dell'Unione Europea di interesse cinese e vede come protagonisti l'autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale di Trieste e la CCCC, la China Communications Construction Company. È un accordo diviso in tre parti. La prima riguarda un intervento della CCCC sul nodo ferrovero e triestino che per il 70% fa capo a rete ferrovera italiana. Il progetto ha un valore di 200 milioni di euro, dei quali 160 già finanziati, e comprende anche una serie di investimenti ferroviari nell'area di Trieste, Villa Opicina, Monfalcone e Cervignano. La seconda parte dell'accordo riguarda un grande impianto logistico da milioni di metri quadrati che i cinesi della CCCC stanno costruendo in Slovacchia a Cosice. Già oggi, ogni giorno, dal porto di Trieste partono treni merci con destinazione alla Slovacchia, per cui l'autorità portuale potrebbe entrare nel nuovo interporto slovacco con una quota di minoranza. La terza parte, infine, prevede lo sviluppo di progetti in Cina con la China Communications Construction Company, per esempio piattaforme logistiche che potrebbero facilitare l'esportazione dei prodotti italiani in Cina. Una volta firmato l'accordo, ci saranno 90 giorni di tempo per definire i dettagli e le intese, nelle quali ci saranno riferimenti espliciti al rispetto delle norme comunitarie dell'Unione Europea, alla cui commissione, comunque, resta la gestione e la mediazione dell'intero progetto. Continua la crescita dell'export in provincia di Udine, trainando la regione a un record storico. Le esportazioni in provincia di Udine continuano a trainare la crescita dell'economia e trascinano l'intero Friuli Venezia Giulia verso il nuovo record storico di vendite all'estero. L'export udinese, secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Istat, nell'intero 2018 è infatti cresciuto del 10,3%, oltre il triplo della media italiana, portandosi oltre i valori pre-crisi. Nel 2018 il trend positivo delle vendite all'estero in provincia di Udine, sottolinea Anna Mareschi Danieli, presidente degli industriali friulani, a differenza di quanto accaduto complessivamente in regione, è proseguito, segnando addirittura un'accelerazione. La quota dell'export udinese su quella regionale si è attestata così al 38,7% del totale, in crescita rispetto al 2017. La Germania è il primo paese di destinazione dell'export, con una quota pari al 17,4%. Seguono Austria, Stati Uniti e Francia, in forte aumento anche le esportazioni in Cina. Il nostro dato è un raggio di sole tra tante nuvole. Guardando al prossimo futuro, le previsioni non sono incoraggianti, e dunque siamo davvero preoccupati, prosegue Mareschi Danieli. Zavorati come siamo da un'infinità di svantaggi competitivi originati dal nostro sistema paese, riusciamo ancora a stare in piedi e addirittura ad avanzare. Immaginiamoci cosa potremmo fare se invece di generare sfiducia e penalizzare continuamente chi fa impresa, le politiche nazionali ci dessero finalmente una mano, conclude Mareschi Danieli. Proprio nel giorno della visita in Italia del presidente cinese, il gruppo Rino Snydero di Maiano ha annunciato la creazione di Snydero China, una joint venture con il partner He Sees on Trading di Pechino, finalizzata alla distribuzione in via esclusiva delle cucine fiulane sui canali cinese. Il partner è una società cinese leader nella distribuzione a gestione diretta di elettrodomestici di fascia alta importati dall'Europa. L'accordo come obiettivo iniziale è quello di aprire quattro store monomarca. Snydero, il primo, nella capitale cinese, sarà inaugurato a giugno. È stato siglato oggi in regione a Udine il primo atto ufficiale che consentirà di avviare l'iter per la realizzazione della tangenziale sud, della quale si parla da oltre 40 anni. È almeno un quarantennio che si sente parlare della tangenziale sud, la cui realizzazione da oggi pare essere più vicina grazie alla sigla dell'accordo di programma tra Regione e i sindaci interessati dal possibile passaggio dell'infrastruttura, tra i quali Basiliano, Campoformido, Lestizza e Pozzuolo. L'accordo prevede il collegamento della strada statale 13 Pontebana e A23 e localizza specificatamente il tracciato dell'opera del valore di oltre 140 milioni di euro, inserendolo nel piano regolatore generale vigente a Pozzuolo e aggiornandolo in quello degli altri comuni interessati. Dal 74 che si aspettava questa firma per poter cominciare una procedura ancora complessa, ancora lunga, ma sicuramente necessaria per arrivare poi alla posa della prima pietra. È un'opera straordinaria dal punto di vista sia ambientale che per la sicurezza. Dico solo che la strada attuale va a passare circa 50 mila abitanti, mentre dopo si va a qualche migliaia. Quindi vuol dire che quantomeno un miglioramento dal punto di vista dell'atmosfera e soprattutto anche della sicurezza mi pare ovvio. In sostanza la firma di oggi che cosa sancisce? Un programma che fa variante poi per il piano regolatore, dopodiché questo va come in Consiglio dei Ministri per il decreto della valutazione della via per il Consiglio dei Ministri, ritorna, poi c'è solo una serie di... Dopo la procedura della via... Tanti adempimenti. Facendo la somma di tutti questi adempimenti che sono successivi alla firma di oggi, è chiaro che andremo all'inizio del 2021, che sarebbe un grandissimo risultato. A Udine l'ipotesi di realizzare una struttura in piazza 20 Settembre per poter ospitare al coperto attività commerciali, iniziative di vario genere, divide gli udinesi. Lei cosa pensa? È favorevole a un mercato coperto qui in piazza? Mica tanto, no, perché quando viene coperta a me manca l'aria, mi piace vedere il cielo, in città è abbastanza raro. Quindi non una cosa stabile, una cosa temporanea può essere compatibile. Coperto? Allora, l'idea del mercato coperto secondo me è interessante e si potrebbe sviluppare, sarebbe una cosa bella, però coprire piazza 20 Settembre no. Cioè, no, è così bella così coprirla, non per il mercato, ma per la piazza. Potrebbe essere un'idea, bisogna vedere come viene realizzata anche dal punto di vista estetico. Però sì, come in altre città, direi che potrebbe essere un luogo di aggregazione anche, no? Con magari dei servizi all'interno. Io sono per la verità per le aree aperte, per le aree, all'aria aperta e poi qua è un posto bellissimo. Certe volte vedo delle persone sedute là a prendere sole e effettivamente li vedo contente, quindi non so se varrebbe la pena di fare un mercato giusto. Lei sarebbe favorevole? Beh, assolutamente, visto che ne usuflisco per tre giorni a settimana. E poi sarebbe, probabilmente sarebbe un valore aggiunto alla piazza. Ma forse anche in generale, proprio per il commercio, proprio per il centro. Poi, a dire la verità, stanno cambiando i climi, quindi tendenzialmente non proprio più. E quindi forse sarebbe stato meglio farlo prima. Però sicuramente è una cosa carina. In tutte le grandi città, in Europa soprattutto, la gran parte dei mercati è al coperto. Quindi non vedo perché no in questa piazza, visto che poi si presterebbe bene. Siamo allo sport, al calcio, con l'arrivo oggi in Friuli, a Udine, della Nazionale Italiana. Più di 20.000 biglietti venduti, ne restano ancora pochissimi. Saranno acquistabili ancora domani mattina per assistere a Italia e Finlandia. Domani fischio di inizio alle 20.45. Da qui comincia il cammino degli azzurri verso quello che Mancini ha definito in conferenza stampa il primo vero obiettivo, vale a dire, delle qualificazioni europee. Si respira entusiasmo, si respira freschezza. Di entusiasmo ha parlato Chiellini, riferendosi a ciò che Mancini ha portato a questa nazionale. Qui allo stadio Friuli lo schermo dice benvenuti azzurri e c'è un'emozione particolare soprattutto. Un benvenuto, un bentornato a Fabio Quagliarella, che non torna qui d'avversario, ma appunto con la maglia della Nazionale, lui che è tanto emozionato. Qui in questo stadio poi ovviamente c'è il bianconero di oggi, Kevin Lasagna. Sentiamo cosa hanno detto Mancini e Chiellini in conferenza stampa. Adesso iniziano, comunque inizia quello che è il nostro vero obiettivo, con la qualificazione campionata d'Europa, quindi da domani sicuramente la squadra, io penso che farà, oltre a fare un ottimo gioco, farà anche dei gol. Questo ne sono sicuro su tutto il percorso che faremo da qua all'ultima partita delle qualificazioni. Secondo me tre cose fondamentali. Serenità, fiducia ed entusiasmo. Che dopo il periodo che avevamo passato, sono stati tre ingredienti che lo abbiano fatto svoltare un po' tutto l'ambiente a prescindere dalle qualità tecniche che tutti noi mettiamo in campo, chi come allenatore, chi come giocatore e tutti i ragazzi. E non era semplice. E oggi a Palmanova è stata inaugurata la nuova sede della FIGICI regionale. Oggi si inaugura questa sede. Io ricordo un po' di anni fa, ad esempio la Calabria era stata una delle prime sedi importanti che ha dato un segnale al movimento dilettantistico. Quanto è importante questo giorno? Un giorno importantissimo perché oggi si inaugura la nuova sede, la nuova casa del calcio friulano. E quindi è una giornata che ricorderanno tutti coloro i quali fanno attività sportiva e svolgono attività calcistica. Quindi motivo di grande orgoglio per la Lega di Lettanti, per il comitato regionale del Friuli. Pensate che noi in Italia organizziamo circa 600.000 partite all'anno. Quindi un grande movimento che oggi appunto si arricchisce di un'ulteriore perla, se così la possiamo chiamare, che è la sede del nostro comitato, del comitato regionale Friuli. Oggi in un contesto di festa, in una tre zone di festa, la sede del calcio di Lettanti, l'Italia, Udine e il Friuli Venezia Azzuria dà bei segnali al calcio. Stupendi, devo dire una bellissima testimonianza di accoglienza, ospitalità, attaccamento, ma soprattutto una bellissima testimonianza di grande capacità di investimenti e di lungimiranza. Grazie ad importante famiglia di questa regione, grazie al grande entusiasmo della tifoseria di questa regione, e devo dire anche grazie alla capacità di alcuni enti pubblici di saper assistere e di saper comunque accogliere e dare risposte concrete alle esigenze del calcio italiano. L'Azzurra Tarvisiana, Lara Della Mea, ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom di Cortina, valido per i campionati italiani assoluti. Per questa sera è tutto, l'informazione torna da Pordenone alle 20.45. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.